Errare è umano ma perseverare è davvero diabolico. L'AV ricorre urgentemente contro il nuovo ordine di esecuzione della mamma orsa JJ4, uccisione non voluta per prima dalla famiglia del povero ragazzo Andrea Papi. Tutta l'Italia e tutto il Trentino civile si oppongono a questa condanna a morte che potrà essere eseguita dall'11 maggio. Fermiamo tutti assieme la follia animalicida del presidente della provincia Fugatti.